Ciao ragazzi, oggi voglio parlarvi di un momento davvero pungente che è accaduto durante le nomination della nona puntata dell'Isola dei Famosi 2024. Siamo stati tutti testimoni di un confronto acceso tra Vladimir Luxuria e Linda Morselli, con la partecipazione di Sonia Bruganelli. Vladimir Luxuria ha preso la parola per sottolineare la mancanza di protagonismo di Linda all'interno del programma. Le sue parole sono state dirette e senza mezzi termini. Certe volte mi dimenticavo che tu eri all'Isola, puoi essere un po' più protagonista? Mi sembri assente. Un commento che ha sicuramente fatto alzare la tensione in studio. Ma Linda non è rimasta a guardare, e ha risposto con fermezza. Ti ringrazio per il commento abbastanza pungente, devi sapere che sono uno scorpione, vivo nell'oscurità e osservo in silenzio e guardo tutti. Anche perché mi ritrovo ad entrare a metà percorso, ma stai tranquilla che la lingua non mi manca. La situazione ha preso una piega ancora più interessante quando Sonia Bruganelli ha deciso di intervenire. Con una frecciatina ben calibrata ha detto a Linda. Quando finisce il programma. Ma la modella non si è lasciata intimidire e ha risposto con sicurezza. Ce ne sarà un altro. Questa dinamica tra i concorrenti dimostra quanto l'Isola dei Famosi sia un ambiente carico di tensioni e rivalità. Ognuno cerca di difendere il proprio spazio e di farsi valere, anche a costo di scontrarsi con gli altri naufraghi. Linda ha giustificato il suo approccio cauto, sottolineando di essere entrata nel programma da poco tempo, e di voler rispettare chi è lì da più tempo. Ha dichiarato di preferire osservare e vedere come evolverà la situazione, senza fretta ma con determinazione. Sembra proprio che la competizione sia sempre più accesa sull'Isola dei Famosi 2024, e non vediamo l'ora di scoprire cosa riserveranno le prossime puntate. Che ne pensate di questo confronto tra Vladimir Luxuria, Linda Morselli e Sonia Bruganelli? Siete Team Linda o Team Vladimir? Fatemi sapere nei commenti. E ricordate, sulla nostra isola non mancano mai le sorprese e le polemiche. Restate sintonizzati per non perdervi neanche un dettaglio di questa avventura mozzafiato. A presto con nuovi aggiornamenti direttamente dall'Isola dei Famosi 2024.